Giovanni, Coppa Agostoni, un appuntamento classico del finale di stagione, come sono le tue condizioni? Sono innanzitutto contento e felice di poter rientrare alle gare in Italia, non mi aspettavo di poter essere qua, ho trovato una squadra e un direttore che mi ha dato una bella possibilità e voglio sfruttarla al meglio. Oggi tante salite, il terreno perfetto per te comunque? Sì, è una corsa dura, conosciamo tutti il percorso e verrà fuori sicuramente selezione. E poi finisci col calendario italiano di questi giorni? Sì, sono al via di tutte le classiche qua italiane fino alla Trevalli Varesine.